Sono Fabrizio Moscatiello, chirurgo plastico italiano che lavora in Andorra in Spagna. Sono un esperto della chirurgia della transessualità, aiuto moltissimi ragazzi italiani a identificarsi meglio con il loro corpo. Siamo il centro di riferimento delle mastettomie mascolinizzanti in Andorra in Spagna. Venirsi a operare con noi è la garanzia di stare in mano esperti di un chirurgo plastico specializzato nella chirurgia della transessualità. Ti aiuteremo in tutto il percorso preoperatorio, postoperatorio e nella logistica in generale per venire qui a operarsi. Con noi non ci sarà bisogno della eterna burocrazia a cui sei soggetto in Italia. Richiedi una visita online con noi e saremo lieti di risolvere tutti i tuoi dubbi, darti le spiegazioni necessarie e con l'augurio di vederci presto. Grazie. Grazie.